Con le alte temperature di questi giorni resta sempre massima l'allerta sul rischio incendi, anche se fortunatamente nella nostra provincia si sono registrati una serie di roghi isolati di sterpaglie messi in sicurezza dagli interventi dei vigili del fuoco, che non hanno creato grossi danni o pericoli come a Palermo o Pantelleria, dove i roghi hanno investito abitazioni e messo in serio pericolo l'incolumità di parecchie persone. Il meteo dovrebbe avere raggiunto il picco delle temperature tra ieri e oggi, con la colonnina di mercurio che ha oscillato a cavallo dei 35 gradi. Da domani dovrebbe registrarsi qualche grado in meno, con temperature massime intorno ai 33 gradi, per scendere poi nel fine settimana intorno ai 31 gradi sempre di massima, mentre le minime oscilleranno tra i 19 gradi di domani e i 16 di domenica. All'inizio della prossima settimana potrebbe tornare la pioggia, sebbene le massime dovrebbero attestarsi sempre sui 30 gradi e le minime intorno ai 16.